Istituto Comprensivo Salvemini, allora oggi una stimolante e interessante iniziativa. Chiediamo alla dirigente Anna Maria Leoni di che cosa si tratta. Sembra che la normalità si sta affacciando nelle nostre vite. È già una decina di giorni che non abbiamo più casi positivi all'interno della scuola, nessuna classe più in quarantena e quindi abbiamo pensato di organizzare insieme ai ragazzi una manifestazione stamattina sia qua che a Via Etruria sull'orientering. È un nuovo sport che nasce circa un centinaio di anni fa, che si fa nei giardini e nei boschi, misto allo sport. Noi abbiamo pensato di farlo nel giardino della scuola e di associarlo anche alla didattica. Quindi nelle varie tappe i ragazzi troveranno anche delle domande di storia, di geografia e se riescono a rispondere alle domande e a superare la tappa a livello agonistico ci sarà poi un primo classificato, un secondo, abbiamo preparato la targa. Ma solo per movimentare e per cercare di far ritornare anche la socialità che loro hanno perso. Approfitto per dire che il Ministero farà rimanere le scuole aperte a giugno-luglio, ipoteticamente anche agosto e si riprende poi a settembre. Ci sono dei PON ai quali noi già ci siamo candidati, quindi volontariamente sia i genitori che gli alunni potranno scegliere dei percorsi imbrondati soprattutto sullo sport ma anche sulla didattica, una didattica fatta in maniera giocosa, ma comunque ci sono dei corsi di matematica italiano fatti in maniera accattivante, diciamo così. E quindi se i genitori hanno volontà e disponibilità di accompagnare i ragazzi faremo l'ultima settimana di giugno e i primi 15 giorni di luglio e poi apriremo il primo settembre con questi percorsi PON.